Le foto di Maurizio, artistiche, profonde, finalmente in un libro. Un libro che viene pubblicato dalla Toiletta Edizioni, con una prefazione di Tiziano Scarpa e una postfazione di Roberta Semeralo. Era tempo che le foto di Maurizio, quelle che riguardano la laguna, le arti, i mestieri, venissero tutte riunite insieme in un libro, in un'unica visione che dà proprio conto di tutto il percorso artistico di Maurizio. Io sono molto contento di pubblicarlo con la mia casa editrice della Toiletta e in particolare penso che è il primo libro di fotografia che viene pubblicato dalla mia casa editrice. Spero che sia un buon segno.